Possiamo cominciare? Ma pensi di sì. Pierre! Ehi! Possiamo cominciare? Ehi, Gugliano, ma c'è te snuffato lo zolfo prima che non viene qua? Pierre! Pierre! Eh, questo qua a carezza se lo mette in posa, porca pittana. Pierre! Ma non ho più Gugliano, non ne ho potuto ritrovare. Questa è una partita che aspettavo da tempo. Pierre! Non vedo ora che inizio. Pierre! Allora, non è facile con la murtacci tua, tu è Pierre? Pierre! Amici! Speriamo che questa partita non deluda le grandi attese che ci sono create in settimana. Altafì, mamma da rasca. Dobbiamo dire una cosa. Ta mamma da nazzottola, no? Altafì, ma quella pittanazza di munghiera da dosla strumenti a rasca oggi. Lasciamo che la partita inizi e vediamo cosa saranno capaci di fare. Vediamo una cambia discorsi. Grazie Pierluigi e buon pomeriggio a tutti. È stupendo stare qua su in cabina. Sono pronto per il calcio di inizio. Ci ho fatto la spicci di un grido e ti ho fatto il calcio di inizio. Ma anche uno. Ti ho fatto russare tutte le scalette, ci danno a muerto. E se tu lo perdono la griglia di Altafì. A proposito, Altafì, come vedi, munghiera? È fantastica! Sì, ma dimmi la verità, ci sono la rasca di tutti, i colleghi di Fatia o gli amici? Amici! Pizzo, pur, tu sei un buono bruglione, eh? E tu sei un buono cornuto, pur. Come ti senti? Bellissimo! Grazie, Pierre! Ciao a tutti e benvenuti a sta partita del merda! Sai da cosa? Sì, sì, sa ci sono tutte cose. L'hai visto, c'è una munghiera da basso, da, che se rascava con... Con qualche tifoso? Sì, qualche tifoso. Pure con la guardia stava. Sa stefadia la stozza. Possiamo iniziare? Sì, in Altafì, c'è da muerto. Hai saputo che ieri sera è tornata a casa, è trovato un munghiera da che se rascava con un arbitro, no? Che bella serata! E anche ma tu sei veramente un urnuto cronico a loro. Ma ti piace, Chiuri? Puttaneve! Ma secondo me, c'è un munghiera da continuare così, veramente rischio che si fa cinchiana di tutta la Lega Calcio. Non deluderà le aspettative! Benvenuti a tutti gli spettatori, questa è una partita particolare, perché oggi in pratica, niente, il trofeo della partita è Nara Scada con la munghiera d'Altafì. Stasera in campo ci sarà una vera e propria battaglia. Guarda, sono d'accordo con te. Secondo te, come si comporterà la munghiera d'Altafì? Darà il massimo. Beh, innanzitutto bisogna dire che la partita secondo me sarà veramente all'ultimo sangue, perché comunque le squadre che non tanto si vogliono bene, diciamo. Tra l'altro... E' ora di iniziare! C'è questo po' imbriato, sono come accaduto. Dicevo, praticamente comunque le squadre si odiano, quindi ci sarà sicuramente una sfida veramente ad alti livelli. Speriamo che non si trasformi in una carneficina, perché magari facendo falli... E' ora di iniziare! Altafì, in modo la chiamerà non scudarò una monosmerza, eh? E' ora di iniziare! E' quanto è vero che si cuglione, stasera vengo a Casa Dova e non c'ho la munghierda. Ci sarà da divertirsi, amici! Che cosa è il calcio senza i gol? E' come l'amore senza un bacio! E' come un gherda senza la pizza! Ciao a tutti e benvenuti a questa grande partita. Ora vedremo le squadre veramente ferrigne, come si suol dire. E niente, avvisiamo Altafini che la Muglia è una zoccola cronica. Bene! Dal tuo entusiasmo possiamo capire e appurare, insomma, che la cosa è totalmente veritiera. E possiamo naturalmente dire che tu sei un buono turnutone, quindi. Sì! Perfetto! Spuoviamo il mio telefono con la zoccola. Vediamo come va la partita. Ciao a tutti e benvenuti. Subito una domanda a Altafini. Altafì, ci sono dei tifosi che vorrebbero inchianarsi in Muglia prima di stasera. Tu saresti d'accordo? Sì! Ma noi ripareremo più tardi. Frate mia, come si dici! Chi sei che un buon gherda non vuole altro? Intanto seguiamo il calcio di inizio. Un saluto a te e a tutti i nostri amici! Carne, cuglio! Oggi in campo ci sono attaccanti straordinari! Com'è che dici straordinari? Straordinari! E' ricca di gol? Ricca di gol! Un saluto a tutti! Sono veramente felice di essere qui oggi! Io non, tu a città muerto! Che magnifica partenza hanno fatto! Che emozione! Che emozione amici! Che magnifica partenza hanno fatto! Che emozione amici! Che emozione! E' che questo capo si chiama! Mannaggia mamma te! Difesa pessima! Squadra in tilti! Movimenti assenti! Mamma te troia! Nonne della zocola! Riusciremo a svegliarsi prima che sia troppo tardi? Incredibile amici! Non so cosa abbia detto l'allenatore ai suoi ragazzi prima che iniziassi la partita! No! Altafino, da ci ci ha detto l'allenatore alla guaglione che abbiamo contato su un primo campo! Ha detto che stanotte ci sta ancora buttando un mondiale che sono arrascato come una parcia! Credo che l'allenatore si entusiasse dei suoi ragazzi! La partenza è stata da manuale! I chifosi, da manuale! Che l'allenatore, da manuale! E mamma da... Da manuale! Ah vabbè, questo non funzionerà! Che! Che! Ah! Che! Grazie a tutti